Siamo davanti appunto in casa principale, dove si era la porta, che si capisce adesso, che è ancora oltre, ma ne stiamo veramente giocando. La prima cosa che notiamo è il visione visconteo, ripresa un punto anche dall'interno. Un'altra cosa che notiamo sono quei, diciamo, scuditori che partono appena sopra il viscino. Avvicinateli pure. Avvicinateli pure.